Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, oggi siamo in compagnia della nuova Peugeot 308 Station Wagon Pro Green Ivid una vettura che ha sempre soddisfatto le esigenze dei guidatori e che con questa nuova versione ibrida alza ulteriormente l'asticella consolidando la triade del piacere di guida, eleganza e affidabilità. Ma prima di passare all'analisi di questo gran mezzo vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e accendere la campanellina è un gesto che per voi è assolutamente gratuito ma che a me aiuterebbe tantissimo a crescere per poter essere sempre puntuale con voi portando contenuti di qualità anche grazie al mio team sempre attivo su www.elettronauti.it A primo impatto saltano all'occhio le dimensioni del corpo vettura di questa Station Wagon caratterizzati da una lunghezza di 4 metri e 36 centimetri e una larghezza di 1,85 metri con un'altezza che rasenta al metro e 44 centimetri il tutto con un passo ben proporzionato di 2,68 metri, in questa versione 180 il peso è di 1.678 kg il suo peso è dato soprattutto dalla presenza della batteria che è alloggiata proprio qui sotto al bagagliaio è una batteria da 12,5 kWh personalmente queste misure le trovo perfettamente in linea alla categoria e le trovo ben strutturate e proporzionate rendendo questa Peugeot molto piacevole e godibile anche ai più esigenti le masse inoltre sono ben distribuite durante la marcia rendendo l'esperienza di guida armoniosa grazie alla trazione anteriore e i dipesi dell'unità elettrica messi al posteriore e considerate che il 1.6 a 4 cilindri turbo benzina riesce a lavorare all'unisono con il motore elettrico da 81 kW non è grandissima la batteria ma nel complesso non è affatto male comunque siamo a 181 kW non pochi e va precisato che a dirige l'orchestra saremo sempre noi perché grazie ai selettori di guida potremo decidere quale musica ascoltare se il canto del motore endotermico, la sinfonia dell'elettrico o perché no un bel featuring in modalità ibrida e ad enfatizzare il carattere di questa francese ci pensa il pacchetto estetico GT che aggiunge un tocco di personalità sportiva complici anche questi fari e queste zanne a matrice di led il tutto rende la Peugeot 308 inconfondibile partendo dalle linee sul frontale che sono aggressive ed eleganti come lo sono su tutto il corpo vettura fino ad arrivare ad un posteriore da capogiro con linee pronunciate e decise fanno capolino all'estremità della vettura le varie telecamere per il parcheggio che personalmente avrei preferito integrate meglio magari all'interno dei nuovi loghi eccetera eccetera ma non fa niente e proprio qui dietro il portellone elettroattuato apre la scena ad un bagagliaio dalle dimensioni generose parliamo di 361 litri in questa versione hybrid mentre nell'endotermica sono 600 con vari ausili per la vita quotidiana come la luce a led, la presa 12 volte, i ganci, i detti porto oggetti le leve per l'abbattimento dei sedili in configurazione 40-20-40 e uno spazio ulteriore qui sotto per andare a stivare i cavi di ricarica il kit di emergenza e poi c'è anche il subwoofer in questa versione perché qui abbiamo un optional che è audio premium che vi consiglio assolutamente di installare ragazzi perché suona veramente bene una particolarità che mi è piaciuta molto è la presa di ricarica posta simmetricamente a quella del carburante qui sul lato sinistro posteriore della fiancata potete ricaricare la vostra 308 hybrid in circa due ore alla stazione di ricarica in AC di V-Charge grazie al caricatore di bordo a 7,4 kilowatt di potenza che non è affatto male perché tante plug-in hanno ancora la carica a soli 3 kilowatt e nonostante le dimensioni contenute per il segmento di appartenenza l'abitabilità rimane di tutto rispetto complice anche a un abitacolo molto curato nei dettagli con materiali e inserti di qualità su tutta la parte superiore come la plancia e i pannelli porta anche da apprezzare la foderatura delle tasche e anche del portaoggetti gli spazi sono ben gestiti e questi sedile in pelle sono comodissimi nella nostra configurazione poi anche massaggianti e con due memorie che però a parer mio avrebbero potuto essere un pochino meno affossanti avrebbero potuto dare una sensazione di sportività un pochino più alta poi che dire questo splendido e scenico tettuccio apribile è un must have per forza vediamo che ci sono lo apro continuando poi sempre sul volante mi piace la sua forma anche se la dimensione qui della parte del klaxon e dell'airbag mi pare forse un pochino esageratamente grande belli i pulsanti fortunatamente non sono stati inseriti touch ma anzi sono dei pulsanti fisici che non vanno assolutamente male bello il logo gt doppio taglio qui con doppia cucitura a contrasto molto bella anche la pelle traforata per quanto riguarda poi tutto il resto della plancia la qualità comunque rimane alta come abbiamo detto lì davanti la plancia è di un materiale morbido anche lì abbiamo cuciture a contrasto l'impianto audio focal con i tre twitter lì davanti e un medio diciamo che suonano molto bene ma ve l'ho già detto prima per quanto riguarda poi il sistema infotainment è bello questo plano back e questo doppio diciamo schermo che qui sotto ha diciamo i preferiti i pulsanti preferiti sedili media navigazione telefono e clima vedete queste transizioni sono belle ma a volte nascondono un pochino il lag il sistema infotainment di peugeot non è male però andrebbe sicuramente svecchiato rinnovato e anche forse un pochino velocizzato mi piace poi per il resto anche questi tasti a pianoforte sono veramente molto belli di qualità si sente e si vede che i pulsanti sono di qualità qui abbiamo il selettore ancora del volume poi abbiamo tutta la plancia che non hanno fatto in plano black perché altrimenti qui sarebbe stato veramente difficile tutte le ditate si sarebbero viste invece questo argento satinato sta molto molto bene pulsante di start e stop e subito dietro abbiamo la ricarica wireless per lo smartphone poi diciamo che di spazio per andare a stivare bottiglie bicchieri e varie cose ce n'è e ne avanza porta usb c 12 volt selettore del cambio qui davanti drive mode c'è tutto quello che serve ragazzi e ad arricchire la nostra esperienza di guida ed aumentare la sicurezza in marcia ovviamente si pensano in molteplici sistemi di ausilio della guida ho trovato una dotazione veramente interessante e completa che comprende tra le altre cose il cui scontro adattivo che consente anche il mantenimento attivo della corsia ed anche i passeggeri qui dietro saranno coccolati dalla qualità dei sedili e dell'abitacolo di Peugeot 308 e saranno anche comodi ragazzi perché la parte centrale che è un pochino più rialzata ma di poco circa 6 centimetri non è poi così invasiva quindi anche il quinto passeggero riuscirà a stare seduto senza troppi problemi ma ragazzi forse ho parlato un pochino troppo che ne dite di portarla a fare un giro? venite con me? in questo momento siamo in modalità full electric abbiamo ancora 38 chilometri di autonomia e se andate ad utilizzare le varie modalità di guida che sono qui espresse con la drive mode che sono sport, hybrid oppure electric quindi si va ad utilizzare lo motore coadiuvato con il motore elettrico ma più improntato ai cavalli e alla sportività oppure diciamo la modalità ibrida che è una via di mezzo è una giusta via di mezzo secondo me il motore viene utilizzato il meno possibile si utilizza tanto la batteria se però magari non so entriamo in un centro abitato o semplicemente vogliamo andare a sfruttare tutta la batteria e basta ci basta andare in modalità solo elettrica quindi in modalità elettriche in questo momento infatti siamo tranquillamente a 54 chilometri orari e l'auto sta andando grazie e solo al motore elettrico e alla sua batteria che 12,5 kilowattora come dicevo prima non sono tanti però in ogni caso l'auto riesce a muoversi comunque bene è pronta in accelerazione cavoli quanto è pronta devo dire che il motore elettrico spinge parecchio e non sembra neanche che faccia fatica quindi non ci sono forti lag certo viene utilizzato comunque anche il cambio perché è una cosa strana trovarsi a utilizzare solo la modalità elettrica con un cambio ma è così su tutte le ibride plug-in e devo dire che in ogni caso qui Peugeot ha fatto un buon lavoro perché se dovessimo per caso andare ad utilizzare il pedale dell'acceleratore giù tutto fino in fondo riesce ad entrare il motore termico in maniera abbastanza trasparente il rumore percepito a bordo è veramente poco quindi sono stati bravi comunque ad insonorizzarla questa 308 si avverte un po' diciamo il rotolamento dei pneumatici quando si è in elettrico quando si è invece con il motore termico si può ascoltare un po' il sound del motore che non è drogato dall'impianto stereo è un buon sound ma comunque è un motore abbastanza tranquillo non esageratamente spinto buono l'impianto frenante le sospensioni attutiscono bene le asperità del terreno l'accelerazione comunque quando si va in sport c'è e anche lo sterzo è abbastanza pronto devo dire che l'auto non va ad imbarcarsi non è chiaramente una super sportiva però non è male c'è si avverte un pochino di lag e adesso ho provato un attimo a metterla sotto sforzo e si sente anche che sull'anteriore va e pattina ecco il sistema magari di controllo di trazione avrebbe dovuto tagliare un pochino la potenza lì davanti però diciamo che modalità sport ci sta anche ma torniamo subitissimo in modalità electric e notare non si sente più assolutamente nulla siamo passati a 50 km orari e di nuovo abbiamo il silenzio totale dell'elettrico la cosa che mi piace oltretutto è che la batteria si va a ricaricare anche con la tanta frenata rigenerativa che quest'auto può offrire quindi devo dire che da questo punto di vista in Peugeot hanno fatto un ottimo lavoro i pedal dietro il volante ragazzi attenzione perché non sono per regolare la frenata rigenerativa ma sono per cambiare le marce quindi nel momento in cui si va a scalare o ad aumentare la marcia diciamo che entra anche il motore termico e se siete solo in modalità eco o electric la cosa si sballa un pochino l'abitacolo è veramente molto spazioso c'è veramente tanto tanto spazio qui davanti il tunnel centrale non è eccessivamente alto non è molto invasivo certo separa il guidatore dal suo passeggero davanti però non è male c'è tanto spazio e diciamo che in generale ha tutto un feeling premium quest'auto quindi mi sento sicuramente a mio agio qui dentro Peugeot dà la 308 con questa batteria da 12,5 kWh per 50 km di autonomia circa solo in modalità elettrica dai nostri test più o meno siamo riusciti a farne una quarantina che devo dire non è male per la maggior parte delle persone potrebbe voler dire che quasi tutto il percorso durante la giornata è coperto solo dalla modalità elettrica il che comunque non è male riflettendo bene ragazzi la cosa che mi piace veramente più di tutte in quest'auto come anche ho apprezzato tantissimo nella Peugeot E208 è il quadro strumenti qui davanti perché è veramente tridimensionale così è proprio bello 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 da guardare molto belli anche i led le bocchette di areazione sembra tutto molto futuristico e chiaramente è tutto con la filosofia della tridimensionalità insomma Peugeot ha proprio scelto questo come suo nuovo disegno di design degli interni e anche tutti i vari materiali premium che sono stati utilizzati non sono affatto male e poi vabbè come detto prima c'è il tetto panoramico il tetto panoramico veramente bello veramente bello dà tutta una luminosità in più all'auto che veramente la fa sembrare diversa quasi come se fosse un soggiorno le persone dietro poi non stanno affatto scomode e quindi Peugeot ha fatto veramente un buon lavoro beh elettronauti era da tanto che non guidavo una station wagon e devo dire che mi è tornato il sorriso passeggiandoci un po' in queste due settimane e grazie ai suoi 50 km di autonomia circa e modalità sola elettrica sono riuscito effettivamente a dimenticare anche per un po' il motore termico io poi a casa col mio impianto fotovoltaico sono riuscito tranquillamente a gestirmi il lavoro le commissioni quotidiane utilizzando prettamente la ricarica casalinga il caricatore di bordo poi a 7 kg va testato fondamentale per poter ricaricare anche durante qualche pausa veloce senza occupare una colonnina b-charge per troppo tempo che è fondamentale ragazzi tutto questo concentrato poi di eleganza e tecnologia ha un caro prezzo sì parliamo di 41.000 euro optional e pacchetti esclusi è un prezzo un po' altino diciamo per una plug-in me lo sarei aspettato per una 100% electric ma una plug-in beh io da purista degli elettroni punterei alla variante 100% elettrica che è stata presentata qualche giorno fa e che arriverà sui listini del 2024 ma per quelli che ancora devono prendere misura e non sono convinti al 100% che l'elettrico faccia al caso loro potrebbe essere sicuramente una buona scelta la batteria da 12 kWh vi permette di andare ad impatto zero sfruttando magari il fotovoltaico del vostro tetto e vi permette di fare quella gita fuori porta a pieno carico senza dover impensierirvi per le ricariche sfruttando appunto il powertrain in modalità hybrid rinunciando però un po' all'attenzione sui consumi devo dirlo ma voi cosa ne pensate? fatemi sapere qui sotto nei commenti se non lo siete già poi iscrivetevi al canale e mi raccomando date un'occhiata alla recensione completa su www.elettronauti.it ciao ragazzi a presto a presto a presto